Io faccio la differenza perché provo, sperando di riuscirci, a trasmettere la passione che ho per questo lavoro alle persone con cui interagisco, quindi che siano studenti, che siano ragazzi delle scuole a cui vado a fare lezione e insomma tutte le persone che mi stanno intorno, quindi spero che passi un minimo di passione che ho per la ricerca. Ho scelto Make the Difference perché rispecchiamo tutti gli ideali in cui credo anch'io e quindi la possibilità di aiutare le altre persone, di avere tempo per le altre persone e di dare magari qualcosa in più che può aiutarle, soprattutto per i giovani, a crescere e a intraprendere la loro vita futura.